Amici di Armi e Tiro siamo al GSC di Gualtieri in provincia di Reggio Emilia in compagnia di due prodotti molto interessanti pensati dalla Fiocchi Munizioni in particolare proprio per l'addestramento al tiro e in generale il tiro in tutte le condizioni nelle quali si possono avere breve distanza o media distanza e diciamo tiro ludico o addestrativo anche al chiuso oppure anche all'aperto. Stiamo parlando del munizionamento semi jacketed soft point con nucleo in stagno quindi SJSP SN e frangibile RHFP quindi con punta piatta entrambe del peso di 100 grani. Queste munizioni sono disponibili e saranno provate nella nostra giornata in 9x21 ma sono disponibili anche in 9x19 Parabellum. Si tratta di un prodotto anzi di due prodotti che fanno in particolare della loro capacità di schiacciarsi sul bersaglio. Bersaglio ovviamente parliamo di una certa resistenza come possono essere i piatti che si utilizzano nel tiro dinamico o altri parapalle di tipo solido senza produrre rimbalzi pericolosi anche sparando a breve distanza. La differenza sostanziale qual è? Che nella SJSP SN la palla ha una vera mantellatura in lega di rame e il nucleo interno è in stagno. Si tratta quindi di una vera blindata mentre invece nella RHFP si tratta di pulviscolo di bronzo aggregato in una matrice polimerica. Entrambe le palle hanno un peso di 100 grani il che significa che si ha un rinculo modesto nelle armi destinate a utilizzarle e nello stesso tempo buone prestazioni balistiche. La razionalità d'uso delle due tipologie può essere in entrambi i casi la medesima. Diciamo che le blindate col nucleo in stagno hanno una particolare vantaggiosità in particolare nelle canne lunghe come possono essere quelle delle pistole diciamo imbracciabili o più prettamente delle PCC quindi delle carabine in calibri per pistola perché ovviamente la mantellatura è in grado di assicurare una elevata precisione anche con elevate velocità alla bocca che sono tipiche di quello che si raggiunge nelle canne più lunghe che nelle PCP come è noto possono raggiungere anche i 16 pollici. La frangibile diciamo invece è particolarmente indicata per quello che riguarda le canne per pistola. Adesso faremo anche delle rilevazioni cronografiche per verificare la rispondenza tra quelli che sono i dati teorici diciamo di targa di queste munizioni e quelli reali ottenuti in una tanfoglio stock 3 in calibro 9x21. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Con la pistola del nostro test cioè la tanfoglio stock 3 con le munizioni frangibili si evidenzia a fronte di una velocità media di circa 380 metri al secondo una capacità di concentrazione della rosata assolutamente conforme a quello di un caricamento tradizionale con palla blindata o ramata. Di conseguenza da un punto di vista prettamente operativo non ci sono differenze per quello che riguarda l'addestramento. a presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Anche con la semi jacketed con nucleo in stagno le capacità di concentrazione dei colpi sono assolutamente conformi a quello che ci si attenderebbe da un caricamento blindato e quindi anche in questo caso ci sono assolutamente delle eccellenti caratteristiche di ripetibilità rispetto a quello che è un munizionamento tra virgolette di servizio che può essere blindato oppure ramato. Adesso spariamo alcuni colpi a campione su una mattonella di calcestruzzo che simula quello che si può trovare diciamo in una pavimentazione normale non di un campo di tiro ma in una normalissima pavimentazione. Il munizionamento schiacciandosi sul bersaglio cede tutta l'energia cinetica della quale è provvisto e questo si è visto bene nel senso che dopo pochi impatti la mattonella si è frantumata. nonostante questo diciamo la proiezione di materiale di risulta è assolutamente minimale anche sparando a distanza ridottissima. È importante sottolineare anche la completa atossicità di questi caricamenti in quanto la RHFP cioè la francibile è caricata con innesco ledless quindi privo di piombo e ovviamente non contiene piombo all'interno della palla essendo fatto in una matrice polimerica che contiene bronzo. Per quello che riguarda la SJSPSN l'innesco è addirittura il ZP che non ha non solo piombo ma neanche altri metalli pesanti e ovviamente anche in questo caso la palla è una blindata con nucleo in stagno quindi completamente priva di piombo. Questo che cosa significa? Significa che l'utilizzo è assolutamente sicuro per il tiratore nei confronti del rischio di intossicazione da piombo anche utilizzando in poligoni chiusi. Grazie. 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 Grazie.